Allora, buongiorno a tutti, oggi siamo qui nel laboratorio di Raffaele Inghilterra e sono venuto a ritirare il mio flauto. Io sono Luigi Zazzarino, componente della banda musicale della Guardia di Finanza. Su questo flauto, che è un muramatsu novegaratico, la meccanica in argento, è stato fatto un lavoro completo di ritamponatura, lucidatura e sistemazione anche della meccanica perché c'erano alcune problematiche che infisciavano sulla meccanica. Ovviamente esteticamente al primo impatto lo strumento, devo fare i complimenti, è meraviglioso solo a guardarlo. Ora faremo una prova anche sonora, quindi per capire anche il lavoro che è stato fatto e quindi capiremo bene e vedremo insomma il lavoro come è stato svolto. Ci troviamo in questo periodo in cui abbiamo avuto anche la dipartita del maestro Morigone, quindi faremo anche un omaggio al maestro Morigone. 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 Che dirvi? Mi sarei aspettato un ottimo lavoro, però devo dire che il lavoro è superlativo. Sono davvero contento, sono meravigliato perché vi garantisco lo strumento, l'ho preso in mano in questo momento e l'ho suonato. Quindi in altri casi ci sarebbero stati anche dei problemi di meccanica, quindi di registrazioni e ulteriori registrazioni varie, microrregistrazioni, perché il flauto è comunque uno strumento molto delicato delle registrazioni, però devo dire, come avete potuto sentire, suona a primo colpo. Vi ringrazio tanto Raffaele Inghilterra e vi consiglio davvero questo laboratorio. Sono entusiasta. Grazie mille e buona giornata.